Io sono Francesco Maroncini, sono il direttore dei FIAB, vi parlerò più o meno di quello che è una parte del nostro ruolo e cercherò di darvi solo alcuni spunti. Noi siamo il partner ciclistico in questo progetto e se vogliamo parlare di biciclette all'interno di questo progetto avrei potuto tranquillamente farvi fare notte. Per cui invece avendo i tempi ristretti e essendo anche ristretti cercherò di dare solo piccoli spunti e piccole idee su quello che può essere il ruolo della bici. Intanto se gli altri partner sono conosciuti che cos'è FIAB? FIAB è un'associazione ambientalista, è presente in tutta Italia e si occupa di bicicletta ma più spesso si occupa di mobilità attiva. Il termine più corretto è questo, non ci occupiamo soltanto di bici. Mobilità attiva che cosa significa? Lo dice essendo attiva implica che la persona che si sposta faccia qualche cosa, ovvero usi le proprie forze per spostarsi. Significa anche una cosa banale, libertà di scegliere il mezzo. Vedete si può scegliere di andare a piedi in bici o nei mezzi pubblici. La parte residuale è quella che spetta all'auto che comunque non deve e non può scomparire. In termini grafici, questa è la cosiddetta piramide della mobilità. La base della piramide è costruita sul facsimile della piramide alimentare che tutti voi conoscete. La base della mobilità sono le bici, le piedi, i carrozzini, gli skate, l'essere umano. C'è una mobilità ibrida che sono le bici della tassistita che sempre più si sviluppano e sempre più sono utili. Quindi solo la punta deve essere la mobilità a motore, anche elettrica, perché non dipende che cosa metto dentro la mia auto per farla funzionare. Perché il concetto è espresso molto bene da questa diapositiva. La questione non è con che cosa alimento il mezzo meccanico, la questione è lo spazio che occupa. Ne parlava prima il tuo referente, il consumo di suolo che si ha. Ma non è solo consumo di suolo. Se voi guardate l'ultima slide, quella con le persone, soltanto in bicicletta, si riesce ad apprezzare molti più dettagli. Quanto è larga la strada è che ci sono degli alberi in quella foto. Mentre se voi guardate e vi concentrate sulle auto, notate il colore delle auto, la quantità, ma non notate niente del contesto intorno. Ed è qui che si va ad inserire la bici. Se io vado anche in un SIC, e ve lo farò vedere tra poco, tipo questo, questo è il parco del Ticino. È stata una foto scattata dal corpo forestale. Il parco del Ticino oggi viene usufruito così, come un parcheggio, e non come un parco che è un'area naturale protetta. Ed è questo che si va il consumo di suolo. Ora, in questo caso specifico di questa foto c'era anche un reato perché è stata disboscata una parte del Ticino per creare questa cosa qui. E quindi qui c'era anche qualcosa di altro. Però la modalità di fruizione che oggi si ha è questa, ed è diversa da quella che vogliamo. Non c'è protezione. E oltre al consumo di suolo, oltre a non esserci protezione, c'è un'altra questione. Laddove, infatti, vedete qui, questa è una fotopresa famosa per chi bazzica il nostro mondo, dove ci sta una macchina e in realtà ci si parcheggia 10 bici. Dove arriva una persona, massimo due, ce ne può arrivare fino a 10, 10 volte tanto. E c'è anche una questione banale di efficienza. Questo ad oggi è ancora un prototipo, però è in classe A+. Questo probabilmente consuma o meno del vostro frigorifero, però noi andiamo ad usare 1.870 kg per spostare una persona che mediamente ne pesa fra i 60 e gli 80. Se ragioniamo anche di efficienza dell'uso di risorse, termine che ultimamente anche nel mondo scientifico viene spesso adottato, qui siamo totalmente dall'altra parte. Laddove una banale bici ne pesa 11 di chili, è sposta agli stessi 60-80 di prima. Ha 1.0 alle emissioni, per quanto basse meno di 0 non si può avere. E poi perché si può usare per tanti motivi, è facile, più o meno quasi tutti sanno andare in bici o si impara molto rapidamente. Si può usare su tanti altri mezzi. L'ultima riga è quella che è forse più interessante, andare in bici dà felicità. Produce ormoni che danno felicità sia più sereni, felici, contenti. E dopo una giornata in cui sei stato in un posto verde, hai visto, torni a casa anche più contento, non è male. Quindi, dall'altro punto di vista, faremo tornare il ricercatore di Ispra felici, sereni e anche produttivi. Il che non è un obiettivo da poco. Per venire più dentro il nostro tema, proteggiamo e valorizziamo, mediante l'uso della bicicletta, le aree protette, valorizzare l'uso, la fruizione ciclistica. Non solo per il ricercatore che vuole fare la ricerca, che ha scelto la bici perché gli piaceva il mezzo e per tutti i significati. Ce n'è tanti altri dietro. Il primo è per l'appunto rispettare non inquinandolo, anche se abbiamo visto l'auto elettrica sostanzialmente non inquina. Però fa rumore, perché comunque produce rumore. E in un'area protetta, specie le ZPS, correggemi Matteo, quelle relative agli uccelli e agli animali in generale, il rumore è una fonte importante di disturbo. Abbiamo visto, non si consuma suolo, è più facile costruire infrastrutture e anche più semplice accedere perché questo è un banalissimo parcheggio per bici che può essere costruito accanto all'ingresso dove ci stanno fino a 20 biciclette. Se noi creiamo, vi ricordate l'immagine che vi ho fatto vedere del parco del Ticino, voi rischiate di parcheggiare la macchina a 3, 4, 500 metri dall'ingresso della realtà. Oltretutto qui si riciclano anche materiali probabilmente presenti sul posto, il legno è presente su tantissime aree. Una cosa importante è quello che alcuni mi diranno, eh vabbè però dobbiamo andare lontano da casa, in bicicletta è faticoso. Sì, ma i ricercatori sono allenati, lo faranno per il progetto e potranno fare 70 km al giorno. Questa è una tappa, una a casa non l'ho presa, non ho fatto una ricerca scientifica. Qui nel Lazio, dove in 26 km e 26 km in bicicletta si fanno in un'ora e mezzo, due ore se proprio uno va molto piano, ci sono ben tre stazioni, quindi io sono in grado di arrivare, fare la tappa e tornare via, oppure se sono stanco montare a metà e arrivare al posto dopo. Con la massima facilità, portare una bici in treno è relativamente semplice. A Roma so che viaggiano anche in alcuni casi sui mezzi pubblici. Questo è valido per questa tappa qui, lungo il lago di Bracciano, ma è valido per molte tappe. Quindi è semplice anche per il grande pubblico. E quello che vorremmo restituire come FIAB dopo, a fine del progetto, è la semplicità di usufruire delle aree protette, di andare a vedere dei posti che hai sotto casa e non conosci, e di usufruirlo in maniera semplice. Ma non solo c'è usufrutto, c'è un valore che si può aggiungere utilizzando le biciclette a tutte queste cose qui. Ed è un valore importante, perché chi usa la bicicletta, cicloturista qui lo uso in termini generico, in realtà si bisognerebbe parlare di cicloturismi perché ne esistono tanti tipi. Comunque, chi si sposta in bicicletta per andare a vedere i posti, solitamente e in generale è molto più attento all'ambiente che lo circonda. Quindi vuole conoscere l'ambiente in cui si trova, inteso non soltanto come l'emergenza di sapere quel particolare uccello, tal'altra essenza presente sul posto, ma che cosa c'è intorno. Ne parlava prima bene Lorenzo di quello che c'era intorno. Consuma dei prodotti locali, possibilmente l'agricoltura biologica, quindi diventa interessante anche lavorare su questo. Che cosa c'è di produzione locale sul posto a chilometro zero, come va di moda di dire adesso? Produce reddito. Chi si sposta in bici, mediamente, spende un 10-15, a volte anche 20% in più di chi si sposta in auto e soprattutto lo spende sul posto. Perché se va di un'auto è facile portarmi uno zaino con dei panini, in bicicletta i panini pesano e me li compro sul posto. Ed è una fonte di reddito non indifferente. Tutto questo per dire che cosa? A volte capita, io nella mia città di origine ho vissuto e sono nato vicino al parco di San Rossore Massaciuccoli, spesso il parco viene visto come un qualche cosa di distruttivo nel mio ambiente. Non posso più fare il caspita che mi pare. Ma quel parco lì è un'area che in qualche modo mi viene sottratta. In questa maniera qui si ribalta il concetto. Quel parco è un valore che io posso usare per produrre reddito. Perché avere quel parco lì adeguatamente sfruttato mi dà qualche cosa. Ora, questi sono dati sul cicloturismo che vengono fra l'altro dallo studio Ambrosetti. Pochi sanno che le periciclette spostano molti più soldi delle crociere, anche se le crociere sono molto più famose. Ma non è questo che mi interessa. Quello che mi interessa far vedere è questo. Quando parlo di reddito sul posto, quasi tutte le aree hanno un centro visita che spesso è lasciato a se stesso. Fare una trasformazione in un'impresa, in un bici grill, che per l'appunto mi consente la ristorazione, uno spazio giochi per i bambini, una piccola riparazione mi dà fonte di reddito, quella zona protetta lì mi dà valore aggiunto all'ambiente circostante in cui la zona vive. E lo stesso vale per fare impresa proprio. Spesso le persone ci dormono, nei posti più lontani possono andare a dormire e quello che è il nostro servizio di albergabice è costruito per la stragrande maggioranza da piccole realtà, da Bed & Breakfast che quasi chiunque è in grado di aprire e o agriturismi che si possono aprire facilmente anche realtà economiche con ancora valori aggiunti, complessa possibilità di noleggiare la bici sul posto. Vado a vedermi in Friuli, partendo da Roma, una o qualche emergenza e mi noleggio la bici nel posto dove dormo. Vado a chiudere, visto così in due recuperiamo i tempi di tutti. La cosa fondamentale, il concetto fondamentale, il nostro scopo come partner ciclistico oltre quello di accompagnare, oltre quello di anche noi andare a valorizzare, imparare qualche posto nuovo, è quello promuovere l'uso della bici, la valorizzazione delle aree protette, serve a fare questo, serve a valorizzarle, serve a renderle fruite, fruibili e anche in buona parte una fonte di reddito per la popolazione, in maniera che non viva più la ZPS, ZCS, il SIC, quello che è, tutte queste sigle da tecnico, perdonami, ma io non parlo mai per l'acronome, da buon toscano ci piacciono le parole, ma si tratta semplicemente di farle rendere, di farle vivere, di farle conoscerle, farle vivere, farle usare e fruire in tutto il tempo. Grazie.